Mario Cusitore svela tutta la verità sul suo incontro con Ida Platano. Mario Cusitore, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha recentemente rivelato dettagli inaspettati riguardo al suo incontro con Ida Platano, avvenuto dopo la conclusione del loro trono. Durante un'intervista con Fanpage, Mario ha condiviso la sua esperienza e le difficoltà incontrate nel tentativo di riconciliarsi con Ida. Mario Cusitore ha raccontato di essersi recato a Brescia, partendo da Napoli nel cuore della notte, per cercare di chiarire le incomprensioni con Ida. Nonostante il lungo viaggio e le sue sincere intenzioni, l'incontro non ha avuto l'esito sperato. Un mese fa sono tornato a Brescia. L'ho aspettata al negozio la mattina presto. Abbiamo parlato, ma lei continuava a dirmi che non si fidava di me. Non mi credeva dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che soffriva per me da dicembre ed era arrabbiata e tesa. Ha dichiarato Mario. Uno dei principali ostacoli tra Mario e Ida è stata una segnalazione che insinuava una sua relazione con un'altra donna durante il periodo di corteggiamento. Mario ha voluto chiarire la situazione, spiegando che l'accusa era basata su un malinteso. Non è successo niente tra me e Melissa, siamo solo amici. Quel giorno avevo un appuntamento con Eva Grimaldi e Guillermo Mariotto in un bar del centro a Napoli. Quando l'incontro è stato cancellato, ho deciso di andare a trovare Melissa, che alloggiava in un band B vicino. La portiera del band B ha mentito dicendo che sono rimasto lì fino al mattino seguente, ma in realtà ero già a Teverola per misurare il vestito della scelta. Ha spiegato Mario. Nonostante i suoi sforzi per spiegare la situazione e chiedere scusa, Mario ha rivelato che Ida non ha mostrato interesse nel proseguire la conversazione. Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho inviato un'altra lettera pochi giorni fa, spiegando che non potevo più andare a Brescia per non rischiare il mio lavoro, ma non ho ricevuto risposta, ha confessato Mario. Mostrando il suo disappunto per la mancanza di comunicazione da parte di Ida. Il tentativo di Mario di ricucire il rapporto con Ida sembra dunque essersi concluso senza successo. Le sue parole evidenziano la frustrazione e il dolore per un amore non corrisposto e per le false accuse che ha nominato la fiducia tra i due. Resta da vedere se ci sarà un futuro per Mario e Ida, o se questa sarà l'ultima volta che le loro strade si incroceranno.Questa storia è un promemoria di come le incomprensioni e le accuse infondate possano influenzare profondamente le relazioni. Solo il tempo dirà se Mario e Ida riusciranno a superare queste difficoltà e a trovare la pace che entrambi cercano.